Oddio! Oddio! Interessante! Ce n'è tanto di vento adesso Mi ha toccato un po' la bici lì qui nel sud E questo video inizia così Ma quello che stiamo per fare è difficile? No, è facile È rollable, è rollable Quindi è fattibile, non è difficile Però per il contenuto dovresti dire che è difficilissimo È easy per te Perché sei forte Per le persone normali è difficilissimo Per me è easy Vai nel cielo con la bici E' presente quando passate alla luna E ti chiama cane Raga benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con una missione E una soltanto Fare la linea nuova del mottolino Magari facciamo anche qualche altro trick Ma la missione principale di questo video Il focus Hai detto flip sulla terra? No, non l'ho detto Quindi dimenticatevelo per quello Magari si farà un altro video Comunque il focus La missione principale di questo video di oggi Sarà completare tutta la linea nuova Che hanno fatto vicino alla jump area Boh, lui dice che è difficilissima È vero È sketchy È sketchy È sketchy E va bene, ok Quindi adesso mi vesto e poi proviamo Allora siamo on board Andiamo! Sento già del venticello Preoccupante Siccome, siccome sento del vento Facciamo prima il primo pezzo senza salti Uh E poi L'ho sbagliato E poi vediamo Sotto com'è Uh Interessante Ce n'è tanto di vento adesso però Troppo, sì No, no, ce n'è troppo Andiamo solo a vederlo, dai Ok 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 Ok, quindi si arriva a fucile E c'è un Uno speed jump, sembra Da poppare un pochettino Da poppare un pochettino Da poppare un pochettino Grosso e grosso ma mi sembra 6 Sembra grosso ma sembra molto 6 Sì, mi sembro, mi sembra molto Sì Sì Ok, poi Si pedala come dei dannati E si arriva sul secondo speed jump E questo è già un po' Questo è già un po' più interessante Questa è probabilmente la Secondo me, a parere mio, la cosa più easy Questo è il più easy di tutti? A parere mio, la cosa più easy Secondo me sì, non devi far niente Porti porta di là e via Ah, ti porta lui Ah, qua ti schiacci il tasto e vai in ascensore tipo Ok Atterri da questo salto che ti porta da solo Curvettina in appoggio Questo, bello Una whoop Un'altra whoop su cui giocherellare tipo così Parabolica con saltino Poi la struttura più interesting Abbiamo il drop Scherzo, non è questa la più interesting E' l'altra Questo mi sembra tranquillo Ta 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 Si atterra qua E poi Bello 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 Ma che fa' stare? Ma che fa' stare? C'è un condomini paralleli Mi sa di una roba veramente veramente stupida Sì, può essere Però ci sta, dai Anche lo facciamo Proviamo a fare tutta la linea così Vai Vai Oddio Oddio Fino in fondo, fino in fondo E' vero, è stato figo Tonico? Tonico Adesso c'è un pezzettino un po' ripeto Oh no, ho pagato anche io Corrioro a seguirti Raga, non avevo la compro accesa Ma guardate Come hai fatto? Non ho passato sotto la pianta Non ci credo Attenzione ragazzi, colpo di scena E' calato il vento Credo che la faremo Approfittiamone subito Ok, aspetta che si è razzato un po' il vento Dai è buona No? No Che palle Dai, ancora 30 secondi Perché non si fanno i salti quando c'è vento? Cosa succede? Le ruote che girano Fanno tipo scudo Vi arriva la folata di vento La bici si cappotta E voi vi attaccate a Stukatsu E se vi state chiedendo Ma se freno in aria Almeno blocco le ruote No No perché fatte così 30 secondi Nada Si balza ragazzi Ci vediamo domani Ci riproviamo domani Era tutto un troll Oh, watch out E' un nuovo giorno Allora, non è il giorno dopo Ma è due giorni dopo Siamo tornati per riprovare La line Ma come potrete notare Immagino dal mio audio Che non si sente una cippa Lo buono C'è più vento Oggi però c'è Pippo nazionale Che non ci tira la linea Perché c'è vento Si guarda Guardiamo Però non vi nego Che alla fine l'altro giorno Un pezzettino piccolo L'ho fatto Perché improvvisamente E' calato il vento E ho fatto Fino a dopo Lo step down Magari vi lascio La clip che ho fatto Il primo pezzo E poi Se il vento non cala Lo facciamo In un video tutto nuovo In cui facciamo anche altre cose Dai le prime due si fanno Bellissime Cazzo Vabbè Praticamente L'abbiamo fatta tutta Mi ha spostato un po' la bici lì Quindi Bella però Ci sta Ci sta Ci sta È bella Cioè manca l'ultimo Però È super morbida Proprio Vum Vum È grossa Ma è safe Sì 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 È sicuro Questo è bellissimo Proprio a terri Vum Quindi niente Andiamo a riguardarla Intanto ricordatevi Di iscrivervi al canale Lasciare qui sotto Un commento Perché da questa settimana Si inizia con i doppi video Due Così Double Così Il martedì vlog di cose E il giovedì invece Video legend Di Ian on wheels Quindi niente raga Mi sa che ci vediamo nel prossimo video Ciao Ad it up Ad it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh you matter what Ad it up Ad it up Bankroll Euro Peso 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 Peso